Buongiorno, bentrovati. Il lunedì 27 marzo, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Oggi si ricorda San Ruperto Vescovo della Chiesa Cattolica. Apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, dei giornali abruzzesi oggi in edicola. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli principali degli argomenti trattati all'interno del giornale. Titolo d'apertura che riguarda il porto di Pescara perché la snav lascia, non si va più in Croazia. Il porto di Pescara, appunto, evitato dalle compagnie marittime per i fondali bassi. E poi a centro pagina, la fotonotizia, sfinano in 10.000 abruzzo rialzati, raduno degli alpini a isola del Gran Sasso. E poi due notizie di cronaca nazionale. Nel Frusinate, ucciso dal branco, voleva difendere la fidanzata. E' morto questo ventenne, fatto gravissimo, accaduto proprio in terra ciociare. E poi a Savona, operai travolti in autostrada, due morti e nove feriti. E poi le cronache a Pescara. Dunque torniamo alla nostra regione, in particolare la provincia di Pescara. Pescara Sud, Riviera Sud, in questo caso assenso unico per due settimane. Poi città Sant'Angelo, dall'addio a Don Guido, il parroco amico di Papa Paolo VI. E poi ancora in basso, protezione civile in Abruzzo, 7.000 volontari. Parla il sottosegretario della giunta regionale con delega alla protezione civile, Mario Mazzocca, che dice, sono il nostro orgoglio. E poi il mercato del fotovoltaico, F Solare Italia, investe in regione interessati a 265 grandi impianti. Il titolo di sport che riguarda il Pescara, calcio a 5, che trionfa in Coppa Italia. E la prima squadra a vincere il trofeo per due volte di fila, battuta la Luparense ai rigori, con il risultato di 7 a 6. Più avanti vedremo il servizio del nostro Stefano Recanati. E poi la Formula 1, perché quella di ieri è stata una grande giornata anche per la Ferrari. Fettel Show, Fernari torna al successo dopo 18 mesi. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, per andare a vedere l'edizione di Chieti del quotidiano d'Abruzzo. Il titolo principale riguarda il sindaco del capoluogo teatino Umberto Di Primio, che dice, mai preso tangenti. Parla il sindaco, domani il giudice deciderà sul caso corruzione. La foto di centropagina riguarda sempre il raduno degli alpini ad Isola del Gran Sasso. Poi vediamo le cronache a Casalbordino, in coma dopo lo scontro con la moto. A Chieti sfilano in città mille giovani di 40 parrocchie. Poi la cronaca in basso a Lanciano, voleva darsi fuoco per la casa. Poi il sogno di un padre disperato diventa realtà. E' in graduatoria. E poi il volley, la secortona fa il pieno e mette la serie A2 in cassaforte. Dunque salvezza ad un passo per la formazione ortonese. Poi anche in questo caso vediamo il titolo che riguarda la Formula 1, il trionfo della Ferrari. E siamo all'edizione di Teramo. Del centro, la cronaca in questo caso muore a 29 anni mentre va a ballare. Auto con tre giovani di Montorio contro un albero sulla bonifica del Salinello. Vediamo anche le notizie che arrivano da Teramo e provincia. Partiamo dal capoluogo per parlare della vicenda post terremoto. Perché appello al Senato dei sindaci del Teramano che chiedono più sostegno. Poi Giulianova sarà scommessa e sfida il questore e riapre subito. E poi in basso si parla di calcio. Del Giulianova festa con 600 tifosi. Batte la Torrese e vola in eccellenza con cinque turni di anticipo. Dunque complimenti e auguri alla formazione giallorossa. Che dopo un solo anno è riuscita a centrare il salto nel campionato regionale di eccellenza. E poi Lega Pro, il Teramo si accontenta del pari a Mantua. Buona comunque la prova dei ragazzi di Ugolotti che hanno avuto anche occasioni per portare a casa i tre punti. Siamo all'edizione dell'Aquila del centro. Dai Casalesi minacce con le armi. L'Aquila inchiesta sulla camorra così taglieggiavano gli imprenditori. E poi vediamo le cronache. Ancora l'Aquila è un esercito di candidati alle elezioni comunali. Sulmona musica a teatro per Fabrizia e Rigopiano. E poi il calcio di serie DIN. In questo caso Cincin per due per l'Aquila e Avezzano. Entrambe vittoriose. I Rosso-Blu. L'Aquila dunque battono in casa l'Alba Longa per 3-1. L'Avezzano addirittura va a vincere in casa dell'ex capolista Rieti. E domenica prossima allo Stadio dei Marsi alle 15. Si disputerà l'atteso derby tra Avezzano e l'Aquila. E chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine con la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. In alto il titolo della morte di questo giovane di 29 anni nello schianto della sua auto. Domenica di sangue sulle strade abruzzesi. Leandro Modesti viaggiava con altri coetanei nella Ford Fiesta guidata da un amico. Risultato positivo all'alcol test, scrive qui il messaggero. L'incidente è accaduto precisamente a Santomero. E poi ancora incidenti stradali. Casalbordino, scontro tramoto, un ferito gravissimo. Il leso, l'anziano travolto. E poi andiamo più in basso a centro pagina. Direttore d'oro in provincia. Citata l'ex giunta. Pescara, liquidazione da un milione e mezzo senza aver mai lavorato il caso alla Corte dei Conti. E poi Chieti Violenta. Questo è il titolo di questa fotonotizia. Denunciati tre bulli per le botte a un quindicenne dopo il pestaggio. Si vantano sui social. E poi il titolo con articolo a corredo di spalla. Zotecnia aiuti alle aziende per i danni dell'inverno. Andiamo in alto per vedere invece i titoli che riguardano lo sport. Sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo. Del messaggero rugby. L'Aquila capo con il Firenze. Ma con il bonus limita i danni. Calcio a 5. Pescara conquista la Coppa Italia. Ai calci di rigore. Grande entusiasmo ieri sera al pala Giovanni Paolo II. E poi la Serie A. Perché parla l'ex biancazzurro Gianluca Caudenzi. Che dice Pescara fa male retrocedere senza lottare. Domenica prossima tornerà il campionato di Serie A. Con il Pescara impegnato allo stadio Adriatico alle 15. Contro il Milan dell'ex Gianluca. La Padula mai come questa volta rimpianto dai tifosi pescaresi. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Possiamo andare a vedere invece come sempre nell'edicola nazionale i titoli che riguardano i quotidiani nazionali appunto oggi in edicola. Partiamo, lo facciamo tra qualche istante. Ecco qui il Corriere della Sera. Mosca soffoca la protesta. Decine di arresti nel corso di alcune manifestazioni nella capitale russa. E poi così la manovra divide il PD e i ministri tecnici. Si parla di governo e delle problematiche interne al Partito Democratico. In basso lo vedete un titolo. Parlavamo della gara di domenica prossima allo stadio Adriatico tra Pescara e Milan. E in questo articolo del Corriere della Sera si parla di tutti i segreti della cessione del Milan. Siamo a Repubblica, la repressione di Putin, pugno di ferro sulla protesta in diverse città con diverse persone fermate e altre arrestate. Andiamo al messaggero Renzi, assegno dell'Unione Europea ai disoccupati. Chiuso l'Eurosummit, l'ex premier dice basta con l'austerity. Tensione PD tecnici sulla manovra. E poi Russia, la maxiretata di Putin, arrestato l'oppositore Nevlanni. Proseguiamo il fatto quotidiano, minzo abusivo, ecco le carte. Il titolo del fatto quotidiano, il procuratore generale parla chiaro, scrive il fatto quotidiano, già 16 mesi fa doveva mollare il Senato e scontare la pena. Siamo alla stampa di Torino, il pugno di Putin sugli oppositori, 700 arresti. E poi a Mosul, in prima linea, sotto i cecchini dell'Isis. Questo reportage che arriva proprio in merito alla guerra che si sta combattendo contro l'Isis. Siamo al tempo di Roma, Roma senza capitale. Pille giù, consumi che non ripartono, investimenti al palo. Radiografia di un declino. Questo è il titolo del tempo. E poi, vedete la foto, notizia, un altro sfregio a nostra arte. Al Pantheon, due candelabri del Settecento, quasi distrutti da una romena che è stata poi fermata. E poi, lite per una donna, ragazzo ventenne, ucciso dal branco ad Alatrin, provincia di Frosinone. Siamo a Libero, le banche rubano le case ai poveri, scrive il quotidiano Libero. A causa dei mutui non pagati stanno per essere messe all'asta 450 mila abitazioni, scrive Libero. Il giornale, pensioni, le nuove regole, cosa cambia? Dio anticipato, lavori usuranti, contributi statali. Siamo al Gazzettino di Venezia, il titolo centrale, lo vedete Unione Europea, Renzi detta la linea al governo. L'ex premier basta con l'austerità, era sbagliata, è ora che Bruxelles tenga conto dell'Italia. Siamo al mattino di Napoli, Unione Europea, i paletti di Renzi al governo. E poi vedete a centropagina la foto di questa tragedia accaduta nel Lazio, in provincia di Frosinone, ad Alatri, massacrato da 20 ragazzi, questo 19enne di Alatri. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, Letta e Renzi, duello tra ex in Puglia, guerra di numeri nei mini test del PD per il congresso nazionale. Lo sacco, dice Emiliano, non sfonda, ma boccia avverte, dati ancora parziali. E siamo al secolo XIX, in questo caso il titolo principale riguarda una tragedia, un incidente accaduto in autostrada sulla A10 in Liguria. Tir travolge un cantiere, morti due perai, sette feriti, arrestato il camionista. E questo era l'ultimo giornale, secolo XIX, quotidiano di Genova, che abbiamo preso in esame per quanto riguarda i quotidiani nazionali oggi in Edicola. Possiamo dunque tornare alle questioni di casa nostra, ripartendo dal centro per andare a vedere le pagine interne del giornale oggi in Edicola. Si parla del raduno degli alpini, sfilano in oltre 10.000, Bruzzo, rialzati, questa manifestazione che si è svolta ieri, tanto partecipata ad Isola del Gran Sasso. Vedete, Isola, tanta solidarietà, delle penne nere arrivate da fuori regione. Ricordiamo i caduti in guerra, ma siamo qui anche per sostenere voi. Vedete queste due pagine sulla manifestazione, sulla sfilata di ieri. E poi da Vicenza, vedete in basso, aiuti ad un'azienda di Castellalto. E poi il passaggio del tricolore commuove i reduci. Proseguiamo, ci sono tematiche qui di cronaca nazionale. Si parla di quanto è accaduto anche in Russia, delle problematiche dell'Italia con l'Unione Europea. E poi vedete questa notizia di cronaca che ha scosso davvero tutti nel nostro paese in alto, massacrato dal branco, muore a 20 anni. E poi l'altra notizia di cronaca che abbiamo trovato anche nella prima pagina del secolo XIX. Tirre, travolge e uccide due operai al lavoro, arrestato l'autista del mezzo pesante. Siamo arrivati alla pagina d'Abruzzo del centro. Si parla di energia rinnovabile perché EF Solare Italia investe in Abruzzo. L'operatore leader nel fotovoltaico, interessato ai 265 impianti attivi in regione di potenza, però superiore ai 900 kWh. E poi la strategia della società, paese, il mercato è cambiato, serve un approccio industriale. E poi in basso, cambiando argomento, si parla di consumi e famiglie ai tempi del web. Domani a Chieti ci sarà un convegno del Cresa che analizzerà stili di vita e abitudini in Abruzzo. Mentre oggi a Pescara si parla dello sviluppo dei porti, secondo l'Unione Europea, dibattito nella sede di Confindustria con i presidenti delle varie autoriti. Quindi andiamo avanti, siamo alle cronache delle province. Si parla invece, in questo caso, abbiamo visto di questo convegno con le autoriti del porto, in questo caso si parla del porto di Pescara e non è una bella notizia. Porto delle Nebbie, così definito dal centro, perché c'è l'addio praticamente ufficiale, addio viaggi a Spalato. La SNAV non torna più, lo scalo di Pescara viene evitato da tutte le compagnie marittime per i fondali bassi, collegamenti estivi garantiti solo da Ancona. E poi petroliere e traghetti non possono entrare. L'operatore Ranalli dice, ho dirottato la nave da crociera Artemis ad Ortona. Qui sarebbe incagliata. Problema dei fondali bassi del porto di Pescara, un problema che ormai dura da tanti anni. Cambiando argomento, si parla invece di lavori sulla Rivera Sud. Rivera Sud ha senso unico, ma solo per due settimane. Il tratto che va da Via Celommia, Piazza Alcione, percorribile solo in direzione nord, dunque in direzione verso Pescara Nord. Da mercoledì chiude anche la rampa dell'asse attrezzato di Via Lago di Campotosto. E poi si parla dei progetti dell'estate, per l'estate che ormai si comincia ad avvicinare. Si parla di infopoint, di vigili fissi nell'area di Risulta. Questo l'obiettivo dell'assessore al turismo, Giacomo Cuzzi, che vedete nella foto. Proseguiamo, un premio alle eccellenze della sanità privata. Si parla di questa cerimonia a Pescara, con il riconoscimento a tanti primari che si sono distinti nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo. E poi lutto in casa Chiavaroli, addio alla signora Lora, fondatrice del Brigantino. E poi in basso, invece, parliamo di solidarietà, della pedalata, della solidarietà della Fidas in 150 sulla bici, senza sanque, non c'è vita. Il messaggio portato fino al volto santo di Manoppello. E poi è scomparso Don Guido, l'amico di Paolo VI, a città Sant'Angelo, lutto cittadino oggi per la morte, dello storico parroco di San Michele e professore dell'Istituto Spaventa, fu collaboratore di Papa Montini, Papa Paolo VI. E poi a Montesilvano, la villetta confiscata, cambiamo ovviamente argomento, confiscata alla criminalità, diventa la casa della solidarietà. Vedete nella foto il taglio del nastro con il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno. E poi altre notizie dalla provincia di Pescara, ancora Montesilvano protesta dei tassisti, i carabinieri, nessuno ci ha interpellato. Poi ad Abbateggio, il paese, fai da te una sessantina di cittadini al lavoro per due giorni per risistemare il centro storico. E siamo alla pagina di Chieti, del centro, l'intervista a tutta pagina, al primo cittadino, al sindaco, Umberto Di Primio, che dice non ho mai detto sì a quell'imprenditore, parla il sindaco che domani dovrà difendersi dalla corruzione. E poi in alto l'inchiesta, in cinque rischiano il processo per il caso Megalo 3. E poi in basso, in coma dopo lo schianto in moto, Casalbordino, operaio Sevel di 39 anni, cade per evitare lo scooter di un anziano e in rianimazione. Siamo alla pagina dell'Aquila, del quotidiano il centro, Camorra nel mirino dei PM, inchiesta, infiltrazioni, spuntano le armi. La procura contesta a tre indagati un'estorsione con intimidazioni in modalità tipiche delle organizzazioni criminali. E poi vigilantes sventano un furto nel cantiere di Palazzo Camponeschi, preso il ladro. Poi vediamo altre notizie. Uccise la moglie, condannato a 30 anni, il delitto è avvenuto l'anno scorso a Roma, l'autore dell'omicidio è originario di Scurcola Marsicana. In basso, musica e lacrime per onorare Fabrizia sul mona concerto al Caniglia, dedicato alla giovane uccisa a Berlino e agli eroi di Rigopiano. Siamo alla pagina di Teramo, del centro, tragedia Santomero muore nello schianto, mentre va a ballare ancora sangue sulle nostre strade. Auto con tre giovani di Montore Alvomano finisce contro un albero sulla Bolifica del Salinello, perde la vita un 29enne. E poi rave a Colledara, denunciati 29 ragazzi arrivati da tutta Italia. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport, degli spettacoli e dello sport. Ma dobbiamo andare a vedere prima le pagine interne dell'inserto Abruzzo, del quotidiano Il Messaggero. E poi inizieremo a parlare, come ogni lunedì, in maniera ampia di sport. Parleremo soprattutto di calcio, ma anche di calcio a 5 e poi di rugby e di basket. Andando a vedere i servizi in primis delle formazioni abruzzesi, impegnate ieri nei campionati di Lega Pro e di Serie D. A proposito della Serie D, quello che è accaduto ieri ha dell'incredibile in positivo perché c'è stato l'unplein, mai era successo in questa stagione, l'unplein di tutte le formazioni abruzzesi vittoriose. 5 su 5 nel campionato di Serie D. Davvero una domenica indimenticabile per le nostre formazioni. Ma ripartiamo dal Messaggero, dalla cronaca di Pescara. Provincia ex giunta rischia di pagare per il direttore d'oro. Liquidazione da un milione e mezzo senza mai aver lavorato. Domani in corte dei conti. De Dominicis, gli assessori del 2000. E poi bisturi in prima linea, cerimonia per i premi. Medicina Abruzzo. Poi anche sul Messaggero ritroviamo la notizia della scomparsa di Monsignor Guido Spadolini, storico parroco di Città Sant'Angelo. E poi si parla di libri, un libro su Federico Caffè, gli occhiali di caffè, libro e happening. E poi cronaca dell'Aquila. La Basilica di Collemaggio sarà finita entro dicembre. Il consolidamento iniziato a fine 2015 è stato finanziato per 12 milioni dall'Eni. E poi entro aprile all'Aquila la prima stesura del nuovo piano regolatore. E poi Asle, consulente di imprese, l'ex assessore Tranchedi nel mirino della corte dei conti. E poi in basso ha morto l'imprenditore Zecca, pioniere del volo in città. Proseguiamo. Pagina di Avezzano Sulmona. Ex Arsa. Trasferimenti annullati. La Regione perde ancora. La UIL, funzione pubblica, eccepisce il comportamento antisindacale e il giudice. Gli dà ragione. Amministrativo ed Avezzano. Di Pangrazio cerca il bis. Pienone al castello. Dunque si ricandida il sindaco uscente. Poi Castella Fiume. Il prete si oppone. E internet. Si blocca. Sulmona. Parco giochi. Taglio del nastro. Dopo 15 anni. Dal 2002 si attendeva la struttura dedicata ai bambini. In piazza Cicerone. E poi sul Mona parla il sindaco Casini che dice i soldi per la statua di Ovidio. Ci sono. Pagina di Chieti del messaggero. Botte in piazze. Offese social. Tre bulli finiscono in trappola. Svolta nelle indagini sul pestaggio di un quindicenne in pieno centro storico. E poi Lanciano. La fiera chiude col botto. L'attenzione di D'Alfonso. L'impegno della regione, dice il governatore, anche in termini di investimenti, di fondi importanti, migliaia i visitatori alla fiera di Lanciano. Anche e soprattutto nella giornata di ieri, giornata di domenica. E poi siamo a Basto. Si schianta in moto contro una Vespa e in coma un 39enne. Mentre a D'Ortona mercato coperto chiuso. Comincia l'iter per i lavori. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Ritroviamo anche qui la notizia della scomparsa della morte di questo 29enne scomparso in un incidente stradale. Il conducente era ubriaco. E poi Giulianova, do di battaglia e pagliaccetti. Sarà grande festa padronale. Siamo a Giulianova in programma batteria dal mare di fuochi e pirotecnici. E' musica con due bande. E poi Giulianova balla coi lupi nel programma di Canale 5. Rave clandestino a Colledara. Indagini aperte dai carabinieri. Poi in basso, Brucchia al Senato. Decreto terremoto da modificare. Dice il sindaco di Teramo che si fa portavoce dell'appello di altri tre sindaci. E poi ad Alba Adriatica, a bando delle manifestazioni estive, le associazioni si chiamano fuori. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport. Allora apriamo la pagina sportiva. Partiamo dai quotidiani sportivi nazionali. Oggi in edicola per andare a vedere i titoli della giornata di oggi. Giornata come sempre, come ogni lunedì, dedicata ampiamente, non solo sui quotidiani sportivi, alle notizie che riguardano lo sport, d'obbligo ovviamente l'apertura sulla Gazzetta, ma anche sugli altri quotidiani, alla Formula 1. Vedo Rosso, fantastico debutto al Melbourne con la vittoria di Vettel. Trionfo Ferrari dopo 553 giorni. Vettel Show batte Hamilton. Poi in basso, Milan, i segreti della vendita. Corriere dello Sport, Ferrari mondiale. Vettel trionfa in Australia e lancia la sfida. E poi vedete in basso il nuovo Milan, mette i soldi. Altri 50 milioni, dunque arrivano nelle casse della società rossonera. E poi in alto, Verratti apre l'asta. Juve, sono pronto, potrei lasciare. Il Paris Saint-Germain e si muove anche l'Inter. E dunque, come vediamo, come leggiamo in queste dichiarazioni, Verratti, Marco Verratti, il pescarese Marco Verratti potrebbe davvero lasciare il Paris Saint-Germain. Tutto a sport, finalmente titolo dedicato al Ferrari, che torna a vincere dopo 18 mesi senza vittorie, senza aver centrato vittorie nei Gran Premi. E' arrivato ieri il trionfo di Melbourne. Lasciamo anche i quotidiani nazionali, oggi sportivi, oggi in edicola. Possiamo ripartire dallo sport, dal centro, per vedere i titoli che riguardano il Pescara. Pescara ha solo il pubblico, è da Serie A, questo è il titolo principale. Nella classifica della media sport, spettatori, quattro club alle spalle. E ora contro le big, sarà pienone, perché domenica prossima arriverà il Milan. Il 15 aprile ci sarà la Juventus e poi di seguito anche la Roma. Parla il doppio ex Gaudenzi, fuori l'orgoglio, non si può retrocedere così. Doppio ex perché Gaudenzi è stato giocatore del Pescara e del Milan. Il jolly idolo dei tifosi nell'era Galeone dice che tristezza vedere la curva nord vuota. E poi in basso torniamo a parlare anche di Marco Verratti che vuota il Boemo. Zdenek è un maestro, il centrocampista ricorda l'annata con il Boemo, tira fuori il meglio. E' uno che non ti fa mancare niente. E poi la classifica del tifo. Pescara squadra a picco, ma il pubblico merita la Serie A. E sono dati questi importanti. All'Adriatico in media più spettatori rispetto a Sassuolo. Chievo, Empoli e Crotone nelle partite con Milan, Juventus e Roma. La società incasserà circa un milione di euro. Vediamo la classifica per quanto riguarda la media spettatori in Serie A. Inter al comando con 44.604, Juve 39.977. Poi al terzo posto il Milan con 39.651, Napoli con 33.784. Via via tutte le altre, poi al sedicesimo posto il Pescara con 12.978, il Sassuolo con 12.139, Chievo 11.967 spettatori di media. Chiudono l'Empoli con 9.631 ed il Crotone con 8.572 spettatori medi a partita. Allora, possiamo fermarci per qualche istante, andare a vedere le previsioni del tempo, poi torneremo in studio e daremo spazio alle immagini partendo dallo 0 a 0 del Martelli fra Mantova e Teramo. Ed eccoci tornati in studio per la seconda parte di Mattino 6, vi dicevo del Teramo, primo servizio che andremo a vedere, questo pareggio del Martelli ieri 0 a 0 in casa dei Virgiliani. Teramo pari e sbadiglia, Mantova vince la noia nello spareggio salvezza, primo tempo alla Camomilla, ripresa più vivace ma senza squilli. Gli attaccanti non incidono, il dialogolo è sempre penultimo e poi nell'altra pagina tour de force alle porte, vedete in alto sabato ci sarà la partita con la San Benedettese. Dunque il primo round di questo tour de force, poi ci sarà anche la partita infrasettimanale in casa del Lancone. Poi in basso i bianco-rossi continuano con il silenzio stampa, bocche cucite nel dopo partita, l'allenatore del Mantova, Graziani, dice Teramo ha sfruttato le ripartenze. Ma noi andiamo a vedere dunque cosa è accaduto ieri nel servizio di Ania Cantagalli. Un punto per mettere l'ultimo posto a quattro lunghezze di distanza e per dare continuità alla vittoria contro il dubbio. Il punto che si prende il Teramo a Mantova è prezioso per allontanare in classifica l'Ancona ed agganciare il Lumezzano. I bianco-rossi giocano una gara completamente diversa da quella senza anima vista a Bergamo contro l'Albino Leffe. Ugolotti preferisce Carraro a Tempesti, anche se l'ex Pavia sarà poco incisivo. In Mantova parte meglio ma è il Teramo a costruire le azioni più interessanti del primo tempo, provando soprattutto a lavorare palla a terra. Spighi ci proverà due volte e soprattutto sulla seconda occasione l'esterno va vicino al gol servito di prima da Sansovide. Il pallonetto però a beffare l'ex Tonti finisce di un niente all'altro. Nella ripresa il Mantova parte meglio. In sequenza Cittadino, Marche e Di Sant'Antonio fanno vedere i sorci verdi ai bianco-rossi, con Narciso che per due volte è bravo a farsi trovare pronto. A rispondere per le rime è Carraro, chiamando all'intervento Tonti da posizione defilata nel cuore dell'area. I padroni di casa costruiscono poco dopo l'occasione migliore. Renni, entrato da qualche minuto, prende in contropiede la difesa bianco-rossa, anticipa Narciso ma trova Caidi, in scivolata, a negare il gol poco prima che il pallone varchi la linea di porta. Il difensore esulta come se avesse segnato e manda di fatto i titoli di coda sulla gara. L'ultima occasione infatti degna di nota capita dalle parti di Sansovide, con Tonti provvidenziale in uscita. Il Teramo torna dunque a casa con un punto che muove comunque una classifica che rimane deficitaria, ma che non chiude ancora totalmente le chance di salvezza diretta. La nota positiva sta anche nell'atteggiamento di squadra, dal quale provare ancora a partire per affrontare la sfida contro la San Benedettese, in programma sabato prossimo al Bonolis. E questo è il servizio sullo 0-0 del Martelli. Ripartiamo dal messaggero e ripartiamo dal Pescara. Pescara non merita questo, anche il messaggero ha ascoltato il doppio ex di Pescara Milan, Gianluca Gaudenzi. E poi parla Girardino, fuori per infortunio, che dice dimostrerò che non sono finito. E poi una maglia da titolare per Coulibaly, questa la domanda, l'interrogativo alla vigilia della gara con il Milan. E poi in basso si parla invece di motociclismo, del MotoGP con il vastese Iannone, debutto amaro per lui con caduta e ritiro nella gara di Doha. E poi il Teramo tiene duro, buon punto a Mantua, abbiamo visto appena adesso il servizio. E poi iniziamo dunque a parlare di serie, di quello che hanno fatto le formazioni abruzzesi. Vedete in alto San Nicolò colpo playoff sul campo dell'Alfonsine, più in basso una punizione di ganci. Fa sorridere il Pineto, l'Aquila con l'Alba Longa, tre gol e tanti rimpianti. Poi l'Avezzano a sorpresa fa la festa al capolista. E infine la vastese, un lampo di Di Pietro, tiene la vastese in corsa per i playoff. La vittoria di misura ottenuta sul campo della Jesina. Andiamo a vedere ora il centro, per vedere anche in questo caso i titoli che riguardano le formazioni abruzzesi di serie D. Partiamo dal girone G, l'Aquila una vittoria tra i rimpianti. Rosso-Blu schiantano l'Alba Longa e tornano in zona playoff. Nella gara giocata ieri, lo ricordiamo, a porte chiuse, formazione Baby con 8 under. E nonostante le tantissime essenze, l'Aquila ha superato agevolmente l'Alba Longa. E poi Battistini e lo schiaffo di Valenti. Il tecnico svela il retroscenario, ho detto, se fai gol puoi anche picchiarmi. E allora, andiamo a vedere che cosa è accaduto ieri allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, nel servizio di Germana Dorazio. L'atmosfera surreale dello stadio semi vuoto e poco rumoroso arriva una vittoria netta in una partita giocata fino all'ultima palla. E' terminata 3-1 l'Aquila al Balonga, la gara alla pari, per il quinto posto in classifica. Gli ospiti hanno forse sottovalutato la compagine rosso-blu, che ha mostrato determinazione, carattere e gioco. Fin dai primi minuti i padroni di casa hanno puntato alle ripartenze, fino a creare diverse occasioni da gol. Al 35esimo, intercettato un cross dal lato, gira al volo Minincleri, ma trova il portiere pronto alla difesa. Passano pochi minuti al 39esimo, arriva il primo gol dell'Aquila, siglato proprio da Minincleri. Il capitano batte una punizione che trafigge la barriera e centra l'angolo basso a sinistra del portiere. L'Albalonga tenta di contenere gli aquilani che accelerano il passo, ma al rientro dagli spogliatoi passano solo tre minuti e arriva il secondo gol. Questa volta è di Pupeschi. Su un calcio d'angolo di Valenti, che supera tutta l'area, trova un varco il 2-rosso-blu e trafigge la rete di destro. L'Albalonga reagisce e cerca di spostare il gioco nell'area dell'Aquila. Al decimo, infatti, Cruz di testa, è pericoloso davanti a Salvati che riesce a parare. Ancora al tredicesimo la terra calcia, ma la palla oltrepassa l'incrocio dei pali. Al ventiduesimo è però Valenti che segna la terza rete dell'Aquila. Un gol di pregevole fattura, realizzato con un sinistro a giro, che ipnotizza lo stadio con la sua traiettoria, fino all'ingresso in rete. Il terzo gol passa la sveglia all'Albalonga, che si fa più pericolosa nell'area rosso-blu, fino a trovare il gol della bandiera. La terra calcia da fuori aria, perfora la difesa, ma prende la traversa. Pronto sul rimpallo interviene Gurma, che di testa segna al trentesimo il gol dell'Albalonga. L'ultima occasione da gol per gli ospiti arriva il 43esimo, con Magliocchetti servito da Albanese, ma Salvati salva la porta. Ed eccoci a parlare del girone F, dopo aver visto il servizio sulla vittoria dell'Aquila con l'Albalonga, sempre dalle pagine del centro. Il riscatto di Pietro Gol, la avastese, ritrova la via smarrita a Blitz dei Biancorossi, in casa della Iesina, zona playoff a meno 5. In basso parla il tecnico Massimiliano Favo, che dice, battuto, un avversario difficilissimo. E allora andiamo a vedere cosa è accaduto ieri a Iesi, nel prossimo servizio. Dopo aver collezionato appena tre punti in cinque gare, l'Avastese torna all'appuntamento con la vittoria, andando a fare bottino pieno di misura sul campo della Iesina, al termine di una gara condotta senza silli nel primo tempo, e un po' sofferta nella ripresa, dove però gli abruzzesi hanno comunque avuto le occasioni per chiudere il match. Un successo importante per gli aragonesi, che possono tornare dalle marche con la consapevolezza di poter chiudere la stagione in modo positivo, e con ancora la speranza di agguantare almeno l'ultimo posto, valido per i playoff. Senza gli squalificati all'Occa e Galizia, ma con Prisco in campo al centro dell'attacco, si comincia di fronte a 400 spettatori. Sugli spalti contestazione nella curva locale, nella stagione in cui la Iesina festeggia 90 anni, nelle settore distinti, presenti una trentina di calorosi tifosi abruzzesi. Pronti via e al terzo Di Pietro, con un euro-goal dai 35 metri, mette alle spalle di Bolletta, sorpreso dalla conclusione ospite. Gara subito in discesa per i bianco-rossi, per l'occasione in maglia bianca, che contengono senza grandi assilli la sterile reazione dei padroni di casa, che non riescono a rendersi mai veramente pericolosi dalle parti di Marco Nato. Ed è anzi al ventunesimo ancora Di Pietro, per la Vastese, a divorarsi in area marchigiana il gol del 2-0. Mister Favo chiede a gran voce ai suoi ragazzi di avanzare, approfittando delle difficoltà della macchinosa difesa di casa. Al trentacinquesimo ancora ospiti in avanti, con Tafili che cade a terra in area locale, dopo un contrasto con Nicolini di Brescia, che lascia però proseguire il gioco. Si arriva così nella parte finale del primo tempo, con un'altra occasione ospite per Felici, che al quarantaduesimo, con un tiro velenoso, manca di poco il bersaglio. Nella ripresa si riparte con i locali più incisivi. Al quarto, Trudo dal limite mette alto, mentre un minuto dopo è De Cinque a concludere a lato. La squadra di casa appare più propositiva e spinge con decisione nella prima parte di ripresa, senza però mai impegnare veramente il trentanovenne Marco Nato, che deve compiere la prima parata all'undicesimo, su tiro centrale di Trudo. Ma l'occasione più clamorosa capita al sedicesimo per la Vastese sulla testa di Prisco, che costringe Bolletta a salvarsi con l'aiuto della traversa. La gara resta aperta e più equilibrata del primo tempo, con una buona occasione locale, con la Briola che di testa chiama alla parata Marco Nato. Al trentesimo Fiore realizza in fuorigioco il gol del 2-0, che viene giustamente annullato da Nicolini di Brescia, su segnalazione del secondo assistente. Al trentaduesimo ancora Vastese pericolosa, con una sassata di Fiore dai 25 metri, e con la palla che esce al lato di pochissimo. Il finale di gara vede ancora emozioni, con la seconda traversa ospite di giornata con Manzo, che manca così di un soffio, il 2-0 che avrebbe chiuso la gara. Ma per la Vastese va bene così, tre punti importanti per tornare a correre. Questo è il servizio sul successo dei Biancorossi di Favo in terra marchigiana. Andiamo avanti ancora dalle pagine del centro. Ganci per la salvezza, Pineto meta vicina, vittoria dei pinetesi per 1-0 con il San Marino. In rete l'ex giocatore del Pescare. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato da Roberta Di Sante. Con una punizione nel finale di Massimo Ganci, il Pineto fa su all'intera posta in palio contro un organizzato San Marino, ben messo in campo dall'ex tecnico di Chieti e Giulianova Di Meo, al termine di una partita sofferta e con poche occasioni. Ma partiamo da principio, 4-2-3-1 per Giuseppe Di Meo, che con Boba squalificato inserisce Arrigoni in difesa dal primo minuto, mentre in avanti schiera il trio Caprioni-Guidi-Baldazzi alle spalle del centroavanti Olcese per un pacchetto avanzato da 40 gol, terzo miglior attacco del girone. Il Pineto, oggi in maglia verde, si schiera con un 4-1-4-1, che recupera in difesa Pisani e Fiumara, mentre a centrocampo con Emili squalificato torna esposito dal primo minuto. In avanti la punta avanzata è Palumbo. Primo tempo di marca ospite con il San Marino, che dopo una prima fase di totale equilibrio prende le misure e guadagna metri. Al ventesimo Gassama dalla destra mette in mezzo per la testa di Olcese con la parata di Giacchetta. Al ventiseiesimo il Pineto rischia, lasciando sulla punizione di Buonocunto Fantini tutto solo all'altezza del secondo palo. Fortunatamente per i locali nessuno è pronto al tapin vincente. Passano due minuti e gli ospiti si fanno nuovamente pericolosi con una bella azione corale. Caprioni lancia Buonocunto, che invece di concludere preferisce provare a servire la corrente Olcese, favorendo il recupero della difesa biancazzurra. Il Pineto fatica a trovare spazi e a creare occasioni importanti. Ci prova Cercelluti al 42esimo, ma la sua conclusione è fuori misura. Dopo l'intervallo, però, la squadra di casa torna in campo con un piglio più aggressivo e prova ad imporre il proprio gioco, prendendo in mano la partita. Al quinto, Esposito serve a centroare a Palumbo, che però ci arriva in scivolata con la sfera che si impenna oltre la traversa. Passa un minuto e Mariani in diagonale impegnadini. Ora i locali insistono e all'ottavo ancora Mariani mette in movimento Esposito, che tenta anche da fuori, ma Dini è attento. Prec del San Marino al 17esimo, quando Olcese di prima intenzione gira dalla distanza, ma Giacchetta è pronto a far su alla sfera. I minuti passano e la gara non si sblocca. Entrambi i tecnici inseriscono forze fresche in campo. Di Meo richiama a sé Caprioni, Bonocunto e Guidi, per gettare nella mischia Cenci, Mazzotti e Braccini. Amaolo risponde con Cacciatore, Colleluori e Ganci, in luogo di Proietti, Cercelluti e Palumbo. E proprio quando lo 0-0 sembra concretizzarsi al 41esimo, proprio il neoentrato Ganci, lancia Esposito, che viene messo giù al limite dell'area da Gassama, giallo per lui e calcio piazzato, che Massimo Ganci pennella piazzandolo sotto la traversa, regalando al Pineto tre punti pesantissimi che valgono l'aggancio in classifica alla Iesina a quota 33 e che permettono di mettere una seria ipoteca su una salvezza che ora si fa sempre più vicina. Nella giornata in cui le abruzzesi fanno l'unplay in Serie D, spicca anche il colpo esterno del San Nicolò, che passa per 2-0 sul campo dell'Alfonsine. Le reti di Bisegna al tredicesimo del primo tempo e di Traini al sesto della ripresa. Traini autore anche di un gesto di fair play. Il colpo però, il risultato a sensazione della giornata, è quello messo a segno dall'Avezzano, che è andato a vincere sul campo del Rieti, l'ex capolista del Girone G2-1. Il risultato finale per gli avezzanesi, apre Padovani, poi il pari del Rieti. Alla fine decide un gol di Leto. Allora possiamo andare a vedere nelle immagini il successo della formazione marsicana in terra laziale. Il Rieti perde in casa allo Scopigno 2-1 contro l'Avezzano, ma quello che più fa male è la perdita del primo posto in classifica, ora nelle mani dell'Arzachena. Il derby di primavera, meteorologicamente parlando, se lo aggiudica la formazione abruzzese, che già nel Girone di andata allo Stadio dei Marsi aveva battuto gli Amaranto Celeste 3-1. Agli ordini del signore Alberto Cassatini, divisa che alla fine risulterà insufficiente, il Rieti di Fabrizio Paris scende in campo con un'assenza pesante per l'infortunio. Lorenzo Trillò, forse l'elemento più in forma del momento. La prima azione è di Luigi Scotto, con un veloce incursione tra l'altro guardia brussese. Al tredicesimo il gol dell'Avezzano, scontro Lombardo-Belvisi, fallo del Rialdino e calcio di punizione. Parte un perfetto cross per la testa di Padovani, che non dà scampo al numero 1 Amaranto Celeste. Prima munito della partita al diciassettesimo è Filippo Pollino, numero 9 Abruzzese, reo di aver fatto fallo di ostruzione nella ripresa del gioco del Rieti. A pareggiare i cartellini gialli e biondi al ventiduesimo, per fallo sullo pinto. Sembra il Festival dei Gialli, che alla fine risulteranno sei in totale tra le due squadre. Questa volta è Di Paolo, al ventottesimo, per fallo sul capitano Rialdino, Fabrizio Tirelli. Alla mezz'ora, Scotto sul colpo di testa sfiora il palo. Ma sono gli Avezzanesi a sfiorare il raddoppio, con un bellissimo pallonetto di Ettore Padovano, che supera Cucic, ma la sfera viene ribattuta proprio sulla linea. Al trentottesimo, secondo cartellino in casa Rieti, che pareggia Gialli a Bruzzesi, e Matteo Belvisi, a finire tra i primi quattro cattivi della gara. Primo cambio in casa Rieti al quarantaduesimo, cambio forzato per l'infortunio di Belvisi, colpito al volto e al suo posto Tiziano Tiraferri. Con le immagini di Alessandro Montagnier, passiamo alla ripresa, con il Rieti che parte a testa bassa, in 180 secondi ben quattro azioni da rete, la prima al primo minuto, tiro di Valeri ben parato dal portiere, la seconda al novantesimo secondo, sul calcio di punizione di De Martis, la terza al secondo minuto, sventato un colpo di testa di Scotto, ed infine il gol del pareggio, al terzo minuto, segnato da Alessio Lazzazzara, su uno schema sicuramente provato in allenamento, dopo un calcio d'angolo di De Martis. Rieti vuole l'intera posta, è forcing, questa volta è Lewandowski, forte portiere pezzanese a dire no. Mister Paris cambia, fuori in centrocampista, Tirelli per una punta, Marchegiani. Ed è proprio Marchegiani al 26, venesimo a chiamare in causa, sul colpo di testa, il bravo Lewandowski, che si salva deviando sul palo. Pallo colpito per la seconda volta da Francesco Marchegiani al 33, questa volta sfortunatissimo, alla sinistra, dove non sarebbe arrivato il portiere. È l'esaltazione del numero uno pezzanese, al 34esimo, doppio miracolo, prima su botta sicura di Graferri, e poi si esalta su De Martis. Al 37esimo, ultimo cambio Rieti, fuori un difensore, Giacomo Biondi, dentro un attaccante, Jerome Vienne. Ma proprio nel momento del massimo sforzo reatino, arriva la doccia fredda, all'ultimo giro di lancette del tempo regolamentare, veloce contropiede dell'Avezzano, dalla destra Ettore Padovani, mette un invitante pallone al centro, che Davide Leto non sbaglia, regalando la vittoria esterna ai ragazzi di Giuseppe Tortola. Nei cinque minuti di recupero non accade più nulla, Avezzano esce corsato dallo scopigno, dando un grosso dispiacere ai tanti tifosi reatini che in massa hanno sostenuto la squadra. Chiudiamo la pagina relativa alla Serie D, parliamo ancora di calcio, del torneo di eccellenza, dalle pagine del centro vediamo i risultati della giornata di ieri, Capistrello Amiternina 1-1, Martinsicuro Sambuceto 3-1, Miglianico Alba Adriatica 0-2, Morrodoro Penne 0-0, Paterno Francavilla 5-1, Angolana Montorio 1-2, giocata sabato, River Chieti Acqua e Sabone 3-2, San Salvo, Nero Stellati Pratola 0-1, Virtus Teramo Cupello 2-3 in classifica, lo vedete il Martinsicuro a 60 punti, Nero Stellati Pratola 59, Paterno 57 a queste tre squadre, circoscritto il discorso primo posto, si tornerà in campo già mercoledì con il turno infrasettimanale. Lasciamo il calcio di eccellenza e parliamo di promozione e della promozione in eccellenza, scusate il gioco di parole, del Giulianova, Di Paolo porta il Real Giulianova in eccellenza, giallorossi promossi con 5 giornate di anticipo, tripudio, stiamo vedendo proprio nelle immagini il gol vittoria, tra poco lo vedremo, della formazione giuliese, vedete quanti spettatori, quanta gente ha seguito il Giulianova, con tanto di sciarpe e bandiere a Castelnuovo-Vomano, dove si è giocata la gara con la Torrese, tripudio per i 600 tifosi giuliesi, come detto il gol vittoria, è arrivato al secondo tempo, all'undicesimo, ecco qui la rete di Di Paolo con questo gol, ha regalato la promozione, con 5 giornate di anticipo del Giulianova in eccellenza, vedete l'entusiasmo dei tifosi giuliesi, direi giustificato, dopo un anno di purgatorio, il ritorno in eccellenza, tanti i tifosi al seguito, e ora vedrete anche la festa, stiamo vedendo le immagini al tripice fischio finale, ecco qui il tripice fischio finale del signor D'Amore di Sulmona, che decreta la fine della gara, e dunque la promozione matematica e ufficiale del Giulianova, nel campionato regionale di eccellenza, un primato mai in discussione, se non nelle prime giornate, per la squadra del presidente Bartolini, soddisfatto al 91esimo, il patron della formazione giuliese, che ha promesso ovviamente di poter far bene e anche meglio nella prossima stagione, proprio nel campionato regionale di eccellenza, vedete la festa, la gioia dei giocatori di mister Piccioni, al tripice fischio finale del direttore di gara, noi andiamo ad ascoltare proprio le parole del patron giallorosso Bartolini. Penso che i risultati ci hanno dato ragione, quindi andiamo avanti, per adesso penso proprio... E soprattutto chi si aspettava che oggi magari poteva esserci un pareggio per poi festeggiare Alfadini, è rimasto a bocca asciutta, perché questo significa che il Giulianova vuole sempre vincere. Sì, è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, io e Mimmo siamo due persone vincenti, che vogliono sempre il massimo dalla propria squadra, e quindi abbiamo chiesto alla squadra di chiudere oggi la pratica per il campionato, anche perché mercoledì abbiamo una partita delicatissima, quindi adesso ci concentreremo sulla Coppa. Presidente, dopo la prima giornata di campionato, la sconfitta contro il notaresco, eccetera, era subentrata una sorta di amarezza, aveva avuto la percezione che questo sarebbe stato un campionato difficile o che il Giulianova comunque alla fine lo avrebbe dominato? No, quella prima partita l'abbiamo vista con Mimmo insieme ai tifosi, e vedere l'amarezza di tanti ragazzi finita la partita, dove avevano visto il Giulianova perdere anche una partita di promozione, per noi è stata una desolazione, diciamo. Però io avevo capito che la nostra squadra era più che forte per vincere questo campionato. Abbiamo pagato lo scotto di una rosa fatta totalmente sia all'ultimo minuto e di un allenatore che forse non era venuto con la giusta concentrazione per fare calcio a Giulianova. Queste le parole del presidente del Giulianova Bartolini. Nell'altro girone, in girone B, l'altra capolista Chieti perde, sconfitta in dolore, in casa con lo spoltore, la diretta antagonista, 1-0 il finale per la squadra di Ronci, ma la formazione teatina resta al primo posto e potrebbe festeggiare anche nel prossimo turno il salto in eccellenza. Andiamo ancora avanti dopo aver parlato ampiamente di calcio. Siamo al calcio a 5. Pescara fa la storia e porta a casa la Coppa Italia, bis, impresa dei ragazzi di Fulvio Colini che battono per 7-6 la Luparense. Dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul risultato di 4-4 nella lotteria dei rigori, grande protagonista. Ancora una volta il portiere pescarese Pietrangelo. Ma andiamo a vedere il trionfo biancazzurro nelle parole dei protagonisti e nel servizio di Stefano Reganati. Sì, guarda, oggi era veramente difficile, lo sapevo, perché noi avevamo due infortunati, uno squalificato, due infortunati durante la partita, Ghiotti e Leggero. Avevamo caputo che è stato espulso, veramente ci voleva un miracolo, ma questa squadra ci ha abituato a non arrendersi mai e a cercare la vittoria sempre. Siamo riusciti dove non c'era riuscito nessuno. E questa vuol dire che questa squadra, questa società, è la città di Pescara, è tutto l'Abruzzo, è la capitale del Futsal. È la capitale del Futsal, ha fatto qualcosa di straordinario e chiaramente adesso cercheremo anche di vincere lo Scudetto e perciò vorrebbe dire veramente qualcosa di favoloso. la stessa emozione dell'anno scorso è arrivata alla stessa maniera. L'anno scorso avevamo giocato una grande cara, oggi abbiamo sofferto tanto, poi c'è anche da dire che eravamo in grandissime difficoltà che non vi posso neanche narrare qui. Molti fuori, alcuni squalificati, espulso Caputo e due e tre a infortunati. Quindi ancora di più importante questa Coppa. Anche altri ragazzi che hanno fatto la vera fortuna di oggi perché avevano fatto anche le finali di Under 21. Tra l'altro, Alsoni e Mati Rosa, Mati stava alla sesta partita in sette giorni. Una bella vittoria. Una grande vittoria per questa società e questa città. Continua il momento, adesso si ricaricano le batterie, testa alla finale Scudetto perché è veramente il vero obiettivo. Dobbiamo cercare di mantenere il primo posto, poi dopo vedremo. Questo è il servizio sul trionfo del Pescara Calcio a 5. Torniamo al Messaggero perché siamo quasi in chiusura il rugby. L'Aquila, una sconfitta dura da digerire. Neroverdi battuti in casa per 29-33 dalla Medicei di Firenze. Cus Genova si conferma bestia nera del Gran Sasso, sconfitta anche per l'altra formazione aquilana nella pur salvezza. E poi la palla a volo si è con la vittoria significa in questo caso invece salvezza il successo per 3-0 contro la Mater Domini. Castellana permette di agguantare il traguardo, il lanci, il patrone tecnico della squadra, dice tutto lo staff, è stato protagonista. Torniamo al centro per andare a chiudere dando uno sguardo al basket con le abruzzesi, con il Roseto che dopo la vittoria con la fortituto Bologna può guardare con fiducia ai prossimi turni parla coach di Paolo Antonio che dice il tesoro di Roseto il pubblico e poi in basso la Proger che scende in capo questa sera un'occasione per la salvezza se batte il Re Canati ad Ancona può staccare in classifica Limo la sconfitta ieri sera in casa del Treviso. Andiamo a vedere i risultati della serie B di basket con l'Amatori che fa il colpo a Taranto 70-46 Super Campli in casa facile vittoria sulla Valla di Ceppo per 81-63 Capo pesante per l'Ortona battuto per 64-53 dall'Isernia e perde anche il Giulianova sul campo della capolista Montegranaro in basso non si ferma invece la rimonta della Metateramo che passa con il Valmontone 83-89 scusate si ferma la rimonta della Metateramo che viene sconfitta in casa dal Valmontone per 89-83 dopo una serie utile di risultati è arrivata questa sconfitta per la formazione teramana e siamo anche qui sul centro per vedere la pagina dedicata alla Pallavolo con la Sieco che fa il pieno la 2 e in Cassaforte gli ortonesi conquistano con un turno d'anticipo il diritto a restare per il sesto anno di fila nella seconda serie nazionale 3-0 senza storia con il Castellana vediamo anche i parziali 25-21-24 25-17 in 27 e 25-17 in 22 minuti grande risultato anche per la formazione ortonese di volley noi proprio con la Pallavolo maschile siamo giunti alla termine possiamo chiudere qui l'appuntamento di oggi primo della settimana con Mattino 6 io ringrazio Gianni D'Areo in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alla prima edizione del nostro telegiornale il TG6 che andrà in onda come sempre alle ore 14 grazie e buon proseguimento di giornata grazie